Di Capua, 3 dei 5 che riusciamo a vedere fino a questo momento con l'altre di Cassano. Non c'è nessuno a fianco a sé, allora si torna indietro da Barbosa. Satalino, il velo di Lestingi per Munoz, che si accentra, lo fa bene, Munoz! Cassano 1, Giovinazzo 0, il gran lavoro di Munoz. Del primo tempo, la rete di Munoz sblocca il risultato. Andrea Gaetano a Molfetta e Atletico Cassano. Vera, Munoz, Satalino, ancora Munoz, prova ad andare via, lo fa bene, ancora Munoz, ha spazio, con l'esterno per Vera, Vera! Piscitelli salva e poi Vera! Per il 2-0 del Cassano. E' pronto Rafinha, la palla per Sardella, la conclusione deviata da Barbosa. Munoz per Barbosa, capisce tutto Sardella, Sardella la palla dentro! La rete di Piscitelli! Barbosa, prova a puntare Rafinha, Barbosa, Munoz. Cassano 2, Giovinazzo 1. Abbiamo ancora gli sponsor che permettono questo evento, Laboratorio Lomoro di Sciancalepore e la sorsa a Giovinazzo. MG Costruzioni SRL di Mastrandrea Gaetano a Molfetta. Atletico Cassano e Giovinazzo calci a 5, prima frazione, che vede in vantaggio la squadra di casa per due reti a 1, la rete di Munoz e Vera. Munoz, Vera da Satalino, la conclusione! La traversa con la palla che non è entrata. Si continua a giocare, grande botta di Satalino. La traversa, poi la palla che non è entrata. 2-1 per il Cassano. Dall'altra parte, Rafinha per il Giovinazzo. Gol sbagliato, gol subito. La dura legge del gol. Il pareggio di Rafinha. Rafinha, Morgada, attaccato da Barbosa. Prova ad andare via Morgada. Barbosa, lo scontro fisico, ancora Morgada. La palla dentro e l'autogol di Satalino per il vantaggio del Giovinazzo. Le stiggi, Vera. Barbosa. La conclusione! Barbosa! Il pareggio del Cassano. Con la grande conclusione di Barbosa. intervento di Barbosa. Occhio perché è un contropiede. Due contro uno. Le stiggi per Barbosa. Barbosa! Sardella, il tunnel su Vera. Sardella, Sardella! Giovinazzo 4. Cassano 4. Adesso la partita è davvero bellissima. Errore da parte di Cutrinieni. Munoz, attaccato da Morgada. Munoz prova a liberare il destro! Munoz! Cassano 5. Giovinazzo 4. Pazzo Cutrinielli. Cutrinielli. Cutrinielli si accentra. Messo giù. Calcio di posizione. Parte Cutrinielli. La conclusione in porta! Cutrinielli! Fa il pareggio del Giovinazzo. A porta sguarnita di Benedetto. Per Munoz, Cutrinielli meglio. Due contro uno. Piscitelli! Piscitelli! Sul fondo! Finisce qui. Una partita spettacolare. Tra Atletico Cassano e Giovinazzo. si chiude sul risultato di 5 a 5.